Proclama di appartenenza all'umanità Noi, sudditi delle multinazionali, adoriamo le lavatrici, il televisore, lo smartphone, il giaccone firmato, le scarpe arcicostose di plastica, la macchina automobile e ancora meglio il SUV. Ci prostriamo al finanziamento coatto ed avuliamo i sogni. La realtà più concreta ci pervade da mani a sera e le monete elettroniche sono il nostro viatico al progresso. L'ipocrisia ci nutre e ci sazia e il piccolo opportunismo è fonte di grande soddisfazione e di pieno appagamento. Il senso comune ci fa sentire parte dell'umanità e le bestie noi le amiamo inscatolate e confezionate. I compleanni e le feste fittizie soddisfano la nostra sede di appartenenza al cosiddetto genere umano e ci nebriamo e ci sublimiamo con gli spumantacci e la piccola mignotteria. Francesco Zuccarini stop.